Il teatro Bellini di Napoli Il teatro italiano e napoletano Devo dire la verità che lo stato di salute del teatro napoletano e italiano Venendo qua al Bellini e venendo questo cartellone lo trovo ottimo Devo dire che trovo questo cartellone veramente di grande qualità Credo forse uno dei migliori cartelloni di Napoli Non lo dovrei dire perché poi io sono in scena quest'anno al Teatro Stabile Al San Ferdinando con la ripresa del nostro Circo Equestre Sgueglia Con la regia di Arias che ha avuto un buon successo E quindi saremmo in scena di nuovo a Napoli e poi un mese in Francia Toccando Parigi, Versailles e varie città francesi Però vengo sempre al Bellini perché poi sono nato qua Nel senso la prima cosa da professionista l'ho fatta qua E sono sempre molto legato a sto teatro E devo dire che i due fratelli russo hanno fatto una programmazione eccellente Che non manca niente in questo caso, ci sono grandi nomi, anche giovani Mi piace tantissimo Complimentoni ai fratelli russo, veramente Perfetto, allora ci vediamo presto in teatro E le auguriamo... Sì, e se avete tempo Il 20 luglio sono a Posillipo nell'Anfiteatro Con Medea Carmen Cansandra insieme a Rossella Brescia E a Vanessa Garavina per la regia di Luciano Cannito Volentieri ci saremo, grazie Grazie a te e viva il teatro sempre Sempre Grazie a te e viva il teatro